ciao ragazzi bentrovati buonasera a tutti nel video di oggi vi voglio mostrare dei regali una persona tra di voi che mi segue da tantissimo tempo ossia rox rosa mi ha voluto mandare dei regali triggerosi per il canale e ho pensato di farveli vedere tra l'altro dato che mi trovo vi farò vedere anche quella rosa lì che vedete illuminata in fondo vicino al cuscino e anche un regalo di compleanno viene arrivato a metà novembre da parte di un mio amico quindi andremo a vedere, a sentire che sono fanno alcuni di questi oggetti ora io spero che vi possiate rilassare e che la magia di questo video vi possa accompagnare nel sonno mi scuso anticipatamente perché oggi è giornata di rumori quindi vicini di casa che da cui voce oggi si sente un po' di più e nulla ragazzi spero non ci siano troppi disturbi ovviamente taglierò laddove diventa impossibile ok? allora iniziamo subito prendo la scatola alle mie spalle e ve la mostro vi mostro cosa c'è al soltanto ok? allora questo è un box che ho dove metto i trigger nuovi, gli oggetti più recenti volevo ringraziare enormemente Rosa per i regali che mi ha fatto iniziamo dal primo sono questi occhiali che si illuminano che si illuminano ed eccole qua curiosissimi tra l'altro io da poco ho messo gli occhiali ragazzi come protezione per gli occhi, per la luce e da lontano vedo leggermente sfocato e ho fatto una correzione quindi adesso prea del fatto che porto le lenti anti riflesso alcuni voi in live mi hanno già vista o meno stanchezza oculare anzi e quasi assente prima mi lamentavo tantissimo perché bruciavano spesso gli occhi o me li sentivo accaldati adesso ragazzi adesso ragazzi ho trovato la pace eccole qui questi occhiali meravigliosi super triggerosi poi passiamo agli altri trigger questo credo si chiama xilofono ed è un gioco per bambini uno strumento musicale per bambini uno strumento musicale per bambini ovviamente io non lo so usare ma ciò non toglie che non lo posso usare allora innanzitutto vi faccio vedere l'aspetto proprio visivo cioè guardate che bei colori qua i lati praticamente sono sono retti sono retti è costruito il legno la base è costruita il legno la base è costruita il legno ovviamente ci sono le pacchette che si possono utilizzare che si possono utilizzare e ve le faccio vedere che sono queste rimetto le cuffie così così sento meglio quanto tricherò se sono gli oggetti della mia rox queste sono in legno la base è considerato la base è pensare non li così come così app si es un e poi andiamo a provare l'effetto proprio il suono vediamo così vediamo se così riesco ecco lo poso un attimo sul microfono così uso entrambe le pacchette vediamo e sperimentiamo vediamo se 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 ho avuto all'interno che si può suonare questo strumento che si provava? Devo dire un regalo veramente bellissimo Io sono emozionata quando ricevo i vostri regali Il terzo regalo che ho trovato è questo qui Non so come si chiami esattamente però io lo chiamo grattatesta E adesso l'utilizziamo come Hedrick Head Microbe Ecco, sono da prendere che io l'ho provato su di me Ed è qualcosa di meraviglioso Se il video dovesse uscire troppo lungo ragazzi lo suddivido in due parti Ragazzi vi giuro una sensazione bellissima Ho i brividi, il formicolio su tutto il corpo È qualcosa di meraviglioso Cioè se non avete un coso di questi a casa ragazzi compratelo Perché io ho pensato sempre di prenderlo Ma non lo prendevo mai Per fortuna qualcuno ci ha pensato a prenderlo Io ragazzi proprio Cioè ma anche passato così tipo Top Proviamolo qui Vediamo 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 è un massaggio sulla vostra testa come visual trigger ragazzi ipnotico perchè da tempo ormai questo trigger visual trigger lo troviamo nei vari video nelle live e l'ho sempre amato da vedere proprio infatti ora vi mostro la bellezza ipnotica di questo visual trigger Mouse ossicino le o 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 A presto, a presto. Grazie a tutti. Bene, ci sono altri regali, ma il video non lo voglio fare troppo lungo perché non voglio rischiare che vi addormentiate e non riusciate a vedere gli altri oggettini. E anticipo già che quello lì fa parte sempre dei regali di Ro e ve lo faccio vedere nel video che uscirà dopo di questo. Quindi ragazzi, per ora il video finisce qui, ma ci sarà la seconda parte di questo video dove concluderemo la serie dei tre regali reali che ho ricevuto. Grazie di cuore per essere arrivati fin qui e se ancora non lo fate, mi raccomando, andatemi a seguire su TikTok perché io faccio tutte le serie live su quella piattaforma. Ci vediamo ragazzi al prossimo video, ciao!